Con Vittorio Morelli, storico di Pianella, questa nuova pubblicazione, La cultura dell'ulivo e dell'olio nell'area vestina, hai raccolto tutta la tua storia in questo tuo nuovo libro. In questo volume ho raccolto la tradizione abruzzese e soprattutto dell'area vestina. Partendo dalla copertina, in copertina c'è la riproduzione di un frantoio idraulico di Loreto, della famiglia Venturini. Il frantoio idraulico è una novità perché solo dei mulini si parlava, dei mulini idraulici. Invece questa è una scoperta che presuppone una tecnologia più evoluta rispetto ai mulini. Io in pratica ho fatto una sintesi della storia dell'olio e dell'ulivo nella nostra zona. Questa storia, in tradizione, viene citata anche dai romani, dai autori romani. Uno di questi è Silvio Italico. Poi io mi sono occupato del canto della raccolta dell'oliva che era passato in secondo piano, quasi nel dimenticatoio. In pratica io ho rimesso insieme questi tre canti, che sono dello stesso genere, e ne ho fatto un canto unico. L'importante è che in questo canto ci sono tracce storiche, come la fiera di Foggia, la fiera di Senigallia, si parla dei mammalucchi, si parla del mare, di un mondo lontano che gli agricoltori non avevano forse mai visto. C'è stata la collaborazione dei docenti, dei ragazzi delle scuole e di persone esterne, perché parlare di civiltà contadina sempre è un fatto desueto, un fatto ormai passato in secondo piano. C'era soprattutto la convivenza, i rapporti tra le varie contrade. Non vuole essere un revival, un tornare indietro, ma è una documentazione di quello che era la civiltà contadina nel passato.